Indovina il rumore! Noi di Rete Veneta sfidiamo i nostri telespettatori e tutti i cittadini di Vicenza a riconoscere di che si tratta. Angoscianti boati di guerra? La tempesta perfetta? Un terrificante terremoto distruttivo? Uno tsunami devastante? Rumori provenienti da inferni terrestri, da incubi che prendono vita. Dunque avete cinque opzioni? Guerra? Tempesta? Terremoto? Tsunami? O nessuno di questi. Pronti per la soluzione? Ed ecco la risposta, la risposta esatta è... Nessun cataclisma! Qui l'unica calamità è Via Aldo Moro. Le buche di Via Aldo Moro. Dei veri e propri crateri. E poi con tutti i soldi che vengono raccolti grazie ai cecchini degli occhi elettronici che qui stanno facendo multe a non finire, perché non investire una parte dei proventi per rimettere a posto questa benedetta strada? Ecco, lanciamo questa proposta al nuovo sindaco, rimettere a posto una volta per tutte Via Aldo Moro, che oggi è il vero cataclisma di Vicenza.